Allora, buongiorno, buonasera a qualunque cosa voi state vivendo in questo momento. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Giada si è dimenticata di fare l'intro, quindi ci penserò io a farla. In questo video decoloreremo la sua testolina. C'è Giada. Quindi, buona visione. La polverina un po' ci sta, non basta. Allora, inizio da qua. Questa parte, la faccio dopo. C'è prima questa parte e questa parte. Be hours later. Io spero di farli vedere la sua mano. Le orecchie, le orecchie. Tu, come il coso? Eh, devi mettere... Ti immagini, l'allergico. Avere, per favore. Intanto te li faccio sopra. Attendo, eh. No, guardami. Cioè, alza la testa. Samuele. Aspetta che te lo metto qua davanti. Aspetta che te lo metto. Aspetta che te lo metto. Cioè, vuol dire che poi lo scopo dietro io. Prima faccio questi. E poi li faccio dietro. E fu così che Samuele vi legò. bianco bianco perché vuole diventare bianco no ah sì poi tu mi prende l'antigiallo che cosa è l'antigiallo? e per non farlo diventare giallo allora vediamo sotto amici approcciamo serio? tanto poco? poco allora ci sono certe parti che non ho preso vedrai perché c'è il capello molto scuro boh vedi controllati vedi se l'hanno preso in qualche parte ah ho le ciglia che ho e le braccia vuoi farle? aia brucia ma te li brucia? tanto? vuoi anche le braccia? vieni prima se ti becca i capelli ok questo li posso buttare no non li buttare avoli e li prendi il zan e li apri tu che stagione prendevi? eh io tipo penso 20 a peso non mi ricordo però Giorgio mi ha detto che 20 va bene e li prendi i capelli sotto prendi? capisci? 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 ok ok prendi che sei sotto? qua oh ma ne chi non va? allora abbiamo stato un'ora ma... oddio samuel! sono marroncini! non sono biondi! sono più comodo... oddio aspettate aspettate allora la situazione è questa sono marroncini e non sono biondi però dai sono carini cioè non sono male allora li facciamo e poi vediamo cioè e poi dopo lo vediamo e allora i miei capelli sono venuti così una bazzacca una bazzacca una bazzacca una bazzacca io lo sapevo vabbè ma li devi ancora asciugare esatto si deve essere ancora nel fatto finale ora li asciugiamo vabbè ma so mai io non sono bravo ce li ho provato ora li asciugiamo allora vai dorme le fatti vedere vabbè ma perché tu c'è... allora che spiegato ma com'è che è figata ma ti piaccio? oh spaccano cazzo ma che cosa tiene faccia rossa la sai? ce l'ho la ditta ce l'hai? si ma ti piaccio? oh spaccano si ma le palle rosse una carota dai però li hai presi tutti i capelli eh disossigeno c'è la polverina la polverina era troppo poca era troppo poca vabbè la polverina costa un euro si comprano anche i due sacchetti di polverina e si arriva ahahahah ma ti puoi farlo semplicemente? il problema è che il pello rosso non lo levi con niente che dire che sta giornata che sei qui giornata? esperimento? esperimento? dai però è un genio vedi io l'avevo detto e poi sei mio psicologo e che dire? però non sono male io forse taglierei un po' di più tra un po' apriamo un corso ma l'hai fatta dentro? si ho fatto un giorno buonasera abbiamo venuto questo nuovo video così non lo scopriete più bene perché mi sentivo davvero il visaggio cioè è proprio quindi adesso quindi l'hai fatta? si si per metà ho detto buongiorno buonasera ma l'hai detto bene buongiorno buonasera a qualunque cosa puoi sentire no ho detto buongiorno buonasera a questo nuovo video oggi ma sto credevo anche lei conosce lì bisogna anche i miei cibi tutta la ciglia lei non posso andare a far qua? ah devo fare le ciglia colorare guarda che lascia nere? quindi ora le colori le sopracciglia ma ce l'avete la polvere? è tra l'altro mi hai lasciato il video vuoi farlo sicuramente? Samuele devo non te la prendere con me no 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 e niente il video è finito qui spero che vi sia piaciuto spero che vi sia piaciuto spero che vi sia divertiti vuoi fare un video in cui vi decolori le sopracciglia no vabbè sopracciglia è poco non dobbiamo fare niente ci vediamo ad un prossimo video per nuovi aggiornamenti e nuovi esperimenti ciao spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando mettete like iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti che porteremo e per i prossimi video ciao